Chi ben comincia con tutto quel che segue. Un euro goal di Hannes Fisnall regala il successo al mezzo corona contro il Sarego nella prima giornata del campionato di Serie D. La squadra di Diagostini vince e convince contro i vicentini dell'ex Bobo Simoni e il risultato finale non rispetta del tutto quanto visto sul sintetico di Via Santa Maria. Perché i gialloverdi hanno fatto la partita e il bottino finale avrebbe potuto essere molto più cospicuo se Monti e compagni non avessero peccato di imprecisione in fase realizzativa. Il primo sussulto dell'incontro di marca Vicentina al quarto Sandonà prova la conclusione da 20 metri con palla che però si perde abbondantemente alta sopra la traversa. Poi solo mezzo corona. Migliorini e Fisnall a metà campo fanno il bello e il cattivo tempo assumendo il controllo delle operazioni e costringendo il Sarego a ricorrere spesso al fallo. Al ventitresimo Timpone centra dalla sinistra, deviazione di un difensore e palla in corner con Mele che cade a centro area ma il direttore di gara lascia correre. Un minuto più tardi Tomasi trova il varco giusto sulla destra e crossa la sotera con il portiere Vicentino Marcon che in presa bassa anticipa gli attaccanti di casa. Minuto 32, Pangrazio perde palla sulla tre quarti, Mele gliela soffia e si invola verso la porta veneta. Il centrocampista Vicentino deve ricorrere al fallo per fermare Pollicino. Mele calcia la successiva punizione e cerca il tiro a giro, conclusione centrale che Marcon blocca senza problemi. La squadra di Diagostini spinge sull'acceleratore e al 36esimo Pasquetti centra dalla destra, Marcon esce a vuoto, batti e ribatti in area di rigore veneta con Pivoto che di testa salva sulla linea. Non trascorrono nemmeno 60 secondi che il Mele ha un'altra occasionissima per passare in vantaggio. Apertura di Fishnaller verso destra, Tomasi anticipa Benetti e si presenta tu per tu con Marcon ma impatta malissimo con la sfera e da ottima posizione sparacchi altissimo. Tra il finale di primo tempo e l'inizio di ripresa l'incerto direttore di gara, Geller e di Parma, grazie per due volte Pangrazzo che al 52esimo viene finalmente avvicendato da Vianello. Nella ripresa il Mezzocorona spinge fortissimo sull'acceleratore, al 55esimo Monte di testa spedisce sopra la traversa e sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Marcon deve inercarsi per deviare il sinistro a rientrare di Pellizzari. Il mezzo fa le prove generali del gol al 58esimo, grandestro dal limite di Fishnaller e ottima risposta in tuffo di Marcon. Tutto molto bello ma si può fare molto di più e infatti quello che succede al 61esimo è semplicemente sensazionale. Fishnaller riceve palla ai 25 metri, prende la mira e lascia partire un missile terraria che tocca la parte bassa della traversa e si insacca all'incrocio dei pali. Un euro goal, no no, molto di più. Subito il gol, Isarego prova a reagire ma senza colpo ferire ed è anzi il mezzo a legittimare il vantaggio. Al 76esimo destro da fuori aria del neo entrato Nervo che Marcon mette in corner con qualche difficoltà. Poi però la stanchezza comincia a farsi sentire, nell'ultimo quarto d'ora la pressione dei Veneti mette in crisi i rottagliani. Al minuto 81 Isarego alla palla del pareggio, cross di pivoto dalla destra per Chiechi che tutto solo a centro area indirizza la sfera sotto la traversa ma Fracalossi con un gran colpo di regno e blinda la propria porta e alza in corner. Il mezzo rompe il forcing avversario all'86esimo con il tiro cross da sinistra di Pellizzari che sfira il palo e si perde al lato di un soffio. Finisce dopo quattro assurdi minuti di recupero. Se il buongiorno si vede dal mattino questo mezzo è veramente tosto. Le altre sono avvisate.